con mister allegretti al termine della partita allora per la prestazione gioco spesso in campo sicuramente un pareggio che sta assai stretto da questa clevense certo per quanto visto sicuramente sì per le occasioni create sì siamo stati poco cinici e quindi è venuto fuori questo questo pareggio che è un peccato per quello che si è visto in campo per quello che ha fatto la squadra insomma torniamo a casa comunque con un punto però ecco vedendo un po la partita come come è stata ci sta sicuramente stretto stiamo commentando il pareggio è incommentabile però l'episodio del rigore perché saccone uscito sul pallone un rigore che non ci stava da nessuna parte hai già detto tutto quindi c'è poco da aggiungere credo che le immagini parlino chiaro ed è un peccato perché comunque noi oggi siamo partiti molto bene abbiamo spinto creato è chiaro che se poi un'occasione mezza e mezza così vai sotto non è nemmeno semplice con una squadra che che si chiudeva come come se chiusa la tritium perciò peccato sono mancato un po di cinismo forse alla fine con anche un po di sfortuna no con un tiro di posto trovato sulla linea poi il palo di diallo altri tiri veramente oggi per fortuna è arrivato il gol di danieli che quanto meno la rimbaggiano della squadra è mancato il 2 1 soltanto beh sì insomma abbiamo avuto un sacco d'occasione abbiamo sbagliato nella finalizzazione ed è chiaro che poi quando non fai gol succede che che porti a casa un solo punto perché in quell'occasione è stato molto bravo danieli peccato grazie mille grazie mille grazie mille